Stoppa le aziende e strade chiuse. L'intera provincia di Rimini si avvicina sempre di più ad essere zona rossa. L'ordinanza anticoronavirus firmata venerdì sera dal presidente della regione Emilia-Romagna è dedicata esclusivamente a questa provincia e nasce dalla relazione del direttore generale dell'ASL Romagna e dal documento dei sindaci del riminese. Il primo parla di una situazione che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell'intera area mentre i primi cittadini hanno invocato l'istituzione di una vera e propria zona rossa. Già da sabato netta svolta sulla viabilità chiudono infatti diverse strade secondarie per convogliare il traffico automobilistico su quelle principali e facilitare così i controlli delle forze dell'ordine. Per far fronte a questa necessità la prefettura ha chiesto al governo un potenziamento di uomini e mezzi. A partire invece dal lunedì tutte le aziende dovranno fermarsi ad eccezione di quelle che producono beni alimentari e quelle con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino. Queste dovranno impiegare solo personale residente in provincia e rispettare le misure anticontagio come l'uso di mascherine, le distanze interpersonali e gli ingressi scaglionati. Chiudono dunque anche le banche e le tabaccherie. Spiagge, lungomari, parchi, campi da gioco, aree per cani, orti urbani, cimiteri, tutto chiuso. Possono rimanere aperti oltre a supermercati e farmacie anche fornai, edicole, officine meccaniche e gommisti. Continuano a lavorare anche idraulici ed elettricisti. Chiusi invece i cantieri ad eccezione di quelli urgenti. Ammessa l'attività agricola ma solo con personale residente in provincia, ridotte infine le corse dei mezzi pubblici.